Non ti aspetta una passeggiata con un soprammobile in casa, non è un soprammobile. Assolutamente, ma non è nemmeno quello che cerco, sinceramente. Ma lei proprio non è un soprammobile, è sicuramente una ragazza impegnativa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo c'è poco da fare. Quello che voglio dire che mi spaventa appunto è il fatto che sto così bene con lei quando è in un modo quanto posso stare scocciatissimo quando cambio umore. Cioè per esempio se adesso lei dovesse vedere l'esterna con Raffaella lo cambierà. Capito? Cioè poi ci faccio un'esterna con lei e riparte di nuovo quella situazione, quella parte del tuo carattere. Non c'è anche contestualizzare perché adesso paragonare il dentro e il fuori è relativo. Quello che sto dicendo è che io fuori non è che vedo te che ti baci un'altra, te che vai da un'altra. Non posso sforzarmi di immaginarmi come potresti essere fuori se tu qua dentro non mi dai la dimostrazione. Non mi dai delle dimostrazioni, non mi fai capire come saresti ma mi fai solo vedere quella parte che hai. Ti faccio vedere la parte che è impulsiva, che c'è di reazioni impulsive, eviterò, cercherò di essere più mite. Non ce la farà. Mai dire mai.